Il Castero Sinese Il Castero Sinese è l'unico edificio risalente al Medievo che era rimasto integro per tutto questo tempo. Molto interessante è la differenza tra queste e le mura circostanti, costruite successivamente con diverse tecniche e materiali. Questi muri sono tutti originali e facevano parte del sistema difensivo come questa vasca, che era piena d'acqua per evitare la risalita dei nemici e questa porta nascosta permetteva dei rifornimenti sicuri. Quindi si può capire il bellissimo sistema di difesa che era applicato durante gli assedi. Questo bastione è molto affascinante anche perché proprio durante gli assedi risultava ben rifornito, diventando quasi autonomo. All'interno sono presenti pozze e cisterne. Anche forni e tutti questi elementi permettevano ai militari di isolarsi e vivere autonomamente in modo da potersi difendere bene dagli assalitori. Un'altra cosa affascinante di questo bastione è la presenza di altri due piccoli bastioni che permettevano di osservare meglio la città da differenti punti. Consigliamo la visita a questo castero anche per la bellissima vista che offre su parte della città, data la sua posizione strategica. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS